Ragazzi sono felice di annunciarvi un nuovo arrivo Adesso è in prigione che si sta riposando ma ve lo faccio vedere lo stesso Andiamo a prendercene cura Lo lasciamo libero ai domiciliari Ed è così Per curarlo è facile facile, dobbiamo solo riempire una bacinella d'acqua E successivamente dobbiamo lasciarlo affogare dentro per 15 minuti Se la bacinella d'acqua è più alta forse è meglio Una volta passati 15 minuti lo andremo a riporre nel suo vasetto Poi lo metteremo esposto alla luce del sole, non nel mio caso dato che sono già le 9 di sera E aspetteremo che gli cresceranno i capelli